Un saluto dal Tg della mobilità via di Grotta Perfetta è chiusa ai mezzi pesanti nel tratto compreso tra Largo Santi Martiri dell'Uganda e via Poggio Ameno, modificato il percorso delle linee bus 766, 769 e N716. Le linee 766 e 769 sono deviate sia in direzione stazione Trastevere-Piazza Lostiense e sia in direzione di via Millevoi-Viale Londra, doppia deviazione quindi sia sui percorsi di andata che di ritorno anche per la linea N716, temporaneamente sospese tre fermate. Per ora è tutto, appuntamento alla prossima edizione.